È un problema enorme e secondo me non c'è la consapevolezza di quanto sia grande questo problema che non riguarda solo l'abbandono degli animali ma che investe in maniera diretta e indiretta anche la vita nostra di tutti i giorni. Oggi ho colto l'occasione per presentare questa iniziativa dell'associazione Soccorriamoli per sintetizzare una serie di provvedimenti e di interventi e anche di incontri che faremo tra maggio e giugno con le associazioni di volontariato, con l'ASPA o con i medici veterinari proprio perché il problema è enorme, il Comune non ce la fa nonostante gli sforzi anche economici che abbiamo messo in campo dicevo appunto in conferenza stampa che in due anni è raddoppiata la spesa nel settore del randaggismo da 350 mila a 700 mila e i problemi ovviamente ci sono sempre per cui faccio un appello anche ai cittadini a darci una mano domenica a Villa Dante è l'occasione per venire a contatto direttamente diciamo per chi non lo avesse fatto con questo mondo dell'associazionismo, del volontariato per i randaggi e poi invito anche le associazioni a darci una mano come sempre hanno fatto per superare questa fase di difficoltà che c'è proprio quando inizia il periodo estivo Per quanto riguarda i provvedimenti ce n'è uno in particolare che è interessante la definizione del RUP per la creazione del gattile un investimento del Comune di non poca entità Sì, per la prima volta nel bilancio c'è una somma che servirà sia per il canile sanitario sia per l'oasi felina stiamo nominando il RUP che avrà il responsabile unico del procedimento che avrà il compito di concretizzare finalmente a Messina questo intervento che è un intervento di carattere strutturale di cui c'è bisogno e spero presto insomma si possa avere questa istituzione e quindi finalmente far fronte anche qui a un problema grosso che è il soccorso dei randaggi Grazie